5 4 3 2 come la vedete allora me apparsa lei estate io la vedo di schiena con i piedi in un fiume con i piedi e bagno in un fiume con i pantaloni un po tirati su risvoltati per non bagnarli con l'acqua del fiume ed è rivolta verso la riva è concentrata a sistemare sassi quindi sposta ai sassi per metterle in un certo ordine come si può essere risistemare la riva del fiume monica mi ha fatto vedere una scuola che potrebbe essere un liceo molto bello all'esterno con delle belle colonne però io noto che lei è nel sottoscala di questa scuola la sensazione che mi dà è che lei vorrebbe uscire da questo sottoscala per entrare nella scuola per imparare tutto quello che c'è da imparare e riallineare la sua vita in base a queste lezioni che apprende quindi un'immagine simile nel senso sì seconda sessione di cristina come vedete la sua ps disinteressata vestita festa vestita lutto assente girata di spalle io la vedo molto tutto mi appare proprio come se fosse cristina ma c'è la sagoma cristina ma adesso tipico colore viola con quella densità della ps non so come dire e vedo che cerca di andare avanti e poi viene ritirata indietro da due elastici monica magari mi aiutate c'è vedo una scena del film highlander però mortale ecco l'immortale esatto e la sua ps la vedo un po così no quindi molto combattiva però in questo momento appunto in difficoltà in un certo senso come nella visione di elena in questo caso c'è un esercito che sta andando contro la highlander questo highlander no che sul cavallo monica vibrazione e poi contro canto elena 36 miliardi secondo me 37 consapevolezza 173 75 più più 183 ps 53 54 un po più basso 41 vite 1706 1430 cervello usato 9.2 8.8 nuovo progetto di cristina melina scalinata verso il cielo mi fa vedere una scalappioli di con i gradini in legno e due corde che entra in questa nuvola monica si elevazione causa esoterica monica del fatto che sia tu che elena più o meno a bene adesso un po meno ma abbia avete le braccia incrociate non si può dire no 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 per carità no se se non si può dire va bene non è un problema io vedo una specie di ora come ora stiamo un attimino a non so come dirti a difendere qualcosa mi viene una difesa di qualcosa la prima immagine che mi è arrivata è come se fosse la rappresentazione di due sarcofagi non per noi ma è arrivata quelle energie lì cristina se come se alimentasse l'energia di dei sarcofagi ma entità o vite passate allora se io guardo la situazione mi appare lei come se fosse vestita da di ora cioè come se fosse il di ora che ha le mani su due sarcofagi 2 e con le sue mani li sigilla per l'eternità mi dice monica potrebbe potrebbe essere una vita passata dove era un sacerdote con che personava tra e faceva questi riti monica allora io lei la vedo connessa sia con la morte che con la sofferenza ma in senso trasformativo in senso di evoluzione ho visto per esempio che su di lei intesa come tutta la sua famiglia e la zona in cui abita c'è proprio anche un'entità mentale direi collettiva che può essere o la sofferenza è nobile o la sofferenza è dono di dio ed è come se lei volesse riuscire a trasformare questo non è più disposta a sottostare a questo tipo di entità mentale e vede che altre persone come lei si stanno ribellando a questo vediamo le sue entità mentali monica lei in parte connessa a questa che è collettiva ma è anche sua personale infatti spesso nella sua vita ha tradotto diciamo così in sofferenza diverse situazioni lei e i suoi familiari ok hanno portato verso il dramma verso l'esasperazione diverse situazioni come sua entità mentale io ne vedo solo una che è cliché cliché inteso proprio come la tendenza da parte di questa entità mentale di farle vivere proprio questi schemi che si ripetono che lei stessa percepisce come banali come poco originali vede proprio le vicende che si ripetono proprio a fotocopia con magari qualche particolare differente però sono sempre all'insegna appunto della sofferenza sempre all'insegna della carenza sia in ambito economico che sentimentale quindi cliché che livello? tra il 2 e il 3 ok e l'altra? l'altra io direi che è anche collegata a questa perché l'entità mentale collettiva come ti ho detto può essere alcuni d'è interpretata come la sofferenza è nobile altri la sofferenza è un dono di Dio a seconda anche un po' della credenza religiosa dunque per lei in passato era abbastanza elevata secondo me è il livello 5 adesso molto meno lei non la vuole più vedo infatti un filo molto blando 1 a volte 2 può essere ma più mentali Elena sì vedo una che è quella che vedeva anche Monica legata all'entità mentale collettiva della sofferenza che però in questo momento è come diceva Monica è come se si ribellasse a questa entità mentale quindi si trasforma in rabbia e lotta battaglia, contrastare quindi quell'energia lì molto forte anche nelle parole e nel tono delle parole proprio la fa agire in maniera di contrasto e poi l'altra che la chiamerei simile a cliché un po' più come se seguisse però un po' più le sue idee come se questa entità mentale le avesse imposto dei cliché personali da cui fa fatica a uscire soprattutto lo vedo legato alle alla famiglia come diceva alla necessità di prendersi cura della famiglia perché si fa parte della famiglia quindi in questo senso entità eteriche se ci sono Elena vedo questo drago è un drago con le ali molto grandi che attiene Cristina con le unghie da dietro un drago e poi c'è sembra una pantera ma non proprio c'è un po' particolare un po' strano allora l'idea è della pantera ma un po' astratta la vedo legata al secondo universo a tutta ecco è legata a tutta quella energia dell'occulto mi viene da dire della magia nera occulta anche lì con la paura col contrasto con la paura Monica allora il drago sì l'ho visto e invece questo del secondo universo a me è venuto sotto forma di rinoceronte ma sempre con il concetto della magia infatti mi mette molto l'attenzione sul corno che è proprio considerato questo oggetto magico e la sensazione che si prova sì è quella di inquietudine di oppressione va bene iniziamo se oggi parliamo di Sardegna ma di una regione specifica dove sta Cristina il sulcis iglesiente zona sud-ovest molto ampia iglesias carbonia oristano in parte tutta quella zona lì tanto bella da un punto di vista paesaggistico naturalistico quanto pesante da un punto di vista energetico storico vibrazionale chiamiamo tutti i viventi Sardi in primis prima fila quelli di questa zona e in primissima fila biglietto VIP la famiglia intera di Cristina che dopo la prima sessione senza ne sapere nulla della sessione si è svegliata si è fermata alla seconda dose di Cinevac si è incazzata come una biscia alle palle girate e alcuni hanno anche iniziato forse a vedere dei video è un caso l'unico che eravamo perché di solito siamo tutti pazzi e siamo tutti matti posso dirti che probabilmente quell'entità mentale della lotta riguarda anche tutta la famiglia perché sono entrati con vestiti con non viene la parola corazza d'acciaio armatura ecco l'armatura e una lancia in mano in mano quindi pronti in prima fila pronti a combattere un po' è diciamo anche la zona da cui provengono della Sardegna che li porta a dover lottare perché mi passa proprio questo spicchio ok quasi come se fosse una fortezza militarizzata quindi in eterico mi appare quasi come se ci fossero proprio delle mura tipo con quella roccia egiziana no sai quella chiara un po' rossiccia proprio delle mura composte da questo sasso dove ci sono tutti i militari che non guardano fuori ma guardano dentro quindi che controllano cosa succede all'interno della zona e quindi loro sono abituati a dover lottare con appunto l'armatura e la lancia Monica all'interno del cinema mi spicca molto la sorella e quasi si sbraccia per farmi vedere mentre brandisce questa lancia e i due nipoti credo siano due maschi io vedo due ragazzini questi mi spiccano poi l'altra cosa relativa alla terra sua quella che mi viene la parola l'espressione inversamente proporzionale nel senso che tanto più è originariamente forte e potente questa zona e no forse sì 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 è giusto tanto più hai capito stanno cercando di demolirla di affossarla di annichilirla di bruciarla proprio tanto più il passato è rigoglioso quanto più oggi i lavori sono sottopagati in termini a livello di schiavitù la gente è incazzata all'epoca era in armonia vive in armonia con la natura la gente in qualche modo violenta la natura con costruzioni obbriose con abusi di edilizi anche pattumire in giro diciamolo perché ci sono e c'è con ricerca spasmodica del denaro i soldi come si dice in quella zona i soldi sfruttamento del 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 turismo come ultima risorsa e quel che c'è c'è non solo vedo proprio che è come se stessero emergendo da quella terra delle memorie di civiltà antiche molto evolute molto potenti e quindi ovviamente le forze oscure tentano di comprimere tutto quindi ovviamente cercano di mantenere basso il livello economico il livello coscienziale cercano anche che vedo di bloccare molto gli scavi archeologici è proprio come se sotto a loro sotto serve quell'energia con la potenza quindi c'è tutto quasi come se ci fosse tutto un mondo sotterraneo governato dalle forze oscure dove possono utilizzare quella forte energia per i loro scopi ok ma non deve venire alla luce quindi la gente che si sta svegliando è un pericolo e quindi devono sopprimerla ancora di più per evitare che tutta quell'energia venga utilizzata anche da loro e che venga vengono scoperti diciamo i loro strumenti e i loro segreti va bene un lavoro fatto bene lo faremo questa sera oggi 30 maggio proprio sulla sardegna con indagine rito numero due però intanto lavoriamo lo stesso disincarnati portale aureo in primis tutti quelli che vengono a mancare per causa del cine vacca poi tutti quelli che scompaiono li ritrovano morti impiccati li ritrovano perché erano dispersi e hanno ancora i vestiti di quando sono scomparsi tutte queste morti particolari poi voi due non ne sapete nulla ma io conoscevo una persona che non c'è più e che abitava lì chiamatela iniziamo da lui non propriamente un gran che è voluto e consapevole ma chiamiamolo proprio di quelle zone monica non lo so mi viene un uomo con gli occhiali come se volesse dire mi voglio liberare dalla mia miopia sono stato miope in vita riconosce la tua voce è stupito in maniera positiva di sentirla e di essere richiamato dalla tua voce mi fa vedere che è come se fosse indaffarato a cercare di porre rimedio come se lavorasse sul suo corpo quasi come se fosse un chirurgo no rimettere a posto i pezzi ma tutte le volte che finisce si riapre tutto mi fa vedere come se si lacerasse la pancia mi riconosce sì sì la voce la voce soprattutto la voce io vedo che trasforma i suoi occhiali in un 8 mi fa notare questa cosa gli importa ancora della sua casa è molto secondario adesso deve ricostruire pancia sul corpo ok va bene vuole lasciare un messaggio è come se vedesse di fianco a te un punto di domanda illuminato ma non riesce a fare il collegamento che cosa mi vuoi far vedere non riesco a coglierlo non è come se le lettere non riesco a metterle assieme sono tutte mischiate monica gli offro la famosa vic è il punto di domanda dovrebbe andarsene con questa risposta liberazione informazione consapevolezza in una certa maniera ho iniziato lì io però a me parla di un terreno di una di una di un qualcosa legata a un terreno che lo vedo in parte legato a questo terreno non so di cosa si si tratti esattamente ma lo vedo slegato un po' relegato così Vic è il tempo perché mi fa vedere questi occhiali parte tutto da questi occhiali perché prima mi ha fatti vedere trasformarsi in un otto sdraiato poi questo otto sdraiato me l'ha messo in piedi me l'ha fatto diventare una clessidra il tempo ok nella vic c'è tutto il tempo non esiste le informazioni del portale aureo le informazioni di tutte le sue vite tutte le sue false credenze tutta l'importanza decisamente relativa di cose che sono successe in questa esistenza o in altre andiamo un po' veloci andiamo al punto se c'è in cui l'ha acquisita questa vicca Elena come sta la sua pancia ora non ha più ha lasciato tutta quella cosa sotto come se si fosse tutto fermato lì dove come l'ha visto l'ultima volta e non è secondario non gli importa più quello che mi fa vedere che ha realizzato con la Vic è che il tempo che vedeva Monica era proprio che è come se lui l'avesse fermato e si fosse fermato lì mentre per lui è chiaro che tu sei andato avanti adesso vede la differenza delle cose vede da qua capisce cosa hai cercato di trasmettergli Monica forse la differenza tra il terreno e la terra come da una proprietà personale l'importante invece è la terra in quanto le persone che vi abitano e la possibilità di un'evoluzione come se avesse cambiato così questa da sentirsi individuo a se stante a sentirsi parte di questo attraverso la Vic va bene è dall'inizio della sessione che mente la spirale e la spirale gira la spirale una conchiglia una conchiglia di mare il valore dell'orgone spirale lo conosciamo molto bene passo queste informazioni a questo amico che ora la Vic che se vuole può creare un enorme orgone spirale e come saluto finale infilarlo nel suo ex terreno saluto finale per staccarsi definitivamente da questa realtà da questa vita da quel terreno che ormai non è più suo è stato anche venduto non è neanche più dalla sua famiglia terrena e da lì l'orgone spirale inizia il lavoro in quella zona in pieno sul cis iglesiente lo fa elena si si parte inizia a girare vorticosamente come se fosse una trivella però non buca sta ferma lì gira e espande proprio la sua potenza appunto in tutta la zona nonica si è come se riuscissi a vedere queste spirali riflesse nei suoi occhiali sei quasi a cartone animato no? che si trasformano le lenti in spirali si talmente tanto lui è dentro questo processo benissimo causa esoterica elena del fatto che cristina si è messa una maioncino sulle spalle e poco prima si è totalmente oscurata la sua immagine come quando la la foto che alla videocamera non capisce come gestire la luce dietro le luci della camera ma non è mai successo finora nella sessione nell'inserimento della spirale esattamente in quel momento lì è successo sono allora come diceva monica la il tuo amico che era completamente dentro al processo ha richiamato tutti dei disincarnati che vibravano con questo processo sono arrivati tutti anche direttamente nella stanza di cristina sono arrivati richiamati dal processo della spirale tutti i suoi amici disinformati nati colleghi se non è tutto po d'aria lei ma tutti no no proprio tutti della zona sul cc le gente che richiami tutti i suoi colleghi tutti quelli che ha con cui ha avuto a che fare nel suo lavoro che non dico in più e questo lo fa lui se vuole con loro se ne va nel portale aureo prima di farlo però lascia un messaggio se vuole al nostro amico in comune che è vivo è malato che tu sappia non lo so mi sembra che senza il caso ho sentito ieri che sento una volta all'anno e sentito ieri ti dice cogli stai molto presto molta attenzione a all input e ai messaggi con lasciarti di più sfuggire monica mi fa vedere una caramella mi fa vedere questa caramella che viene scartata e viene fuori come volersi concentrare sulla dolcezza della vita lo salutiamo bene ma come si congeda non posso far altro che ascoltare le tue parole monica come si congeda facendo quasi un giro tondo per ricordare questa spirale via con tutti i suoi quelli che ha chiamato non posso dirlo ma una bella compagine pesante e toglie la sedia da sotto il culo a quelli che adesso andiamo a stanare dai cunicoli lì sotto quanti sono 623 monica se ne vedevo un po di più intorno agli 800 ok chiamiamo tutti i morti che ha chiesto cristina in cause per cause particolari di questi anni compreso il cini back se non sapete cos'è il cini back invertite cini e back e benvenuti nell'era digitale del fascismo nero mi viene molto il concetto di sacrificio è come se venissero persone che hanno inteso la loro morte come sacrificio alcuni anche come sacrificio rituale via tutti i monica elena si infatti sono proprio per lì e sacrifici morti in un sacrificio più quelli cini baccati quanti totale della zona da secoli se sono circa 370 ci sono mille ottocento circa via tutti andate e lo chiediamo cristina impianti non so fianco sinistro a me viene che funzionino aspetta un attimino lì cosa c'è la milza giusto che ignorante che sono sì elena sì elena luisce lei è un po' più esperta di me in questo è come lo sforzo no legato allo sforzo la milza perché lei sta facendo tanti sforzi per riuscire ad allineare vari aspetti della sua vita per portare equilibrio ma lo sta facendo con una grande animosità no e quindi è questo è come voler acuire questa sua fatica no ritorniamo un po' al discorso lì della sofferenza altri impianti forse qualcosa alle caviglie proprio sempre come riduzione rallentamento ecco del movimento proprio mi dà la parola processo sia a carattere simbolico ma anche proprio a carattere legale siccome processo è legato a procedere ok quindi camminare andare avanti eccetera perciò che io gli vedo le caviglie legate perché in ogni modo si vuole impedire questa sua azione questa sua azione di procedere di andare avanti e quindi di liberarsi da varie cose Elena sì ne vedo uno alla bocca dello stomaco sotto tra lo stomaco il duodeno che è collegato a quello della milza perché è proprio questa fatica che lei fa è talmente intensa e talmente con quella rabbia e quella spinta a lottare che questo questo impianto che acqua fa sì che si infuochi che diventi bruciore e che bruci questa zona quindi un altro metodo per cercare di fermarla è provocarle dei sintomi fastidiosi altri c'è un impianto mentale che è una quasi come se fosse una lancia che parte dal dal midollo spinale e arriva al centro del cervello con la punta al centro del cervello quello viene utilizzato dell'entità mentali per attivare soprattutto i processi di ribellione di di rabbia di contrasto causa esoterica monica del della grande connessione con la famiglia meccanismi ripetitivi famiglia complessa ossessiva aspetti legali di doveri diritti pochi addirittura cristina si chiede se c'è una connessione a livello di dna dunque però mi viene anche la parola riscatto è come se loro in in un gruppo molto massiccio e compatto quasi proprio sai ritornando un pochettino al linguaggio di lotta no come se fosse una squadra compatta che lottando poi riesce a vincere a trionfare ok a riscattare e come se facessero queste azioni in maniera congiunta per cui in maniera uniforme hanno avuto nel passato chiaramente ognuno con la propria variante ma una serie di difficoltà che li hanno molto bloccati molto tenuti eh nel minimo necessario e insieme compattamente fa poi questo upgrade questa risalita questa scalinata che abbiamo visto all'inizio essere ovviamente soprattutto di cristina in realtà è come se fosse di tutta la famiglia quasi come se fosse ehm un pezzo unico ehm ehm l'unione che c'è della loro terra è l'unione della loro famiglia a volte io lei l'ho vista anche come una sorta di guardiana esoterica della sua terra ma con la sua famiglia come se fossero degli assistenti diciamo Elena che si calzano parallelamente tutte le difficoltà della loro terra un monoblocco un dolmen sì un menhir menhir Elena sì è come se sì io li vedo come se fossero tutti uniti tra loro legati nel senso che si muovono assieme sono come se avessero una corda intorno ognuno e la corda è legata tra loro è proprio ed è come se attraverso questa corda si passassero l'informazione di ehm di quello che uno di loro ha fatto per eh andare avanti c'è ogni volta che qualcuno fa un passo avanti viene trasmesso a tutti passa il messaggio proprio passa direi da da anima anima non so viene comunicato a tutta la famiglia quindi tutti ricevono informazione quindi si muovono poi tutti nella stessa direzione quindi dna ma io più che dna direi più vibrazione animica contratto cara familiare no è come se avessero scelto e su 12 contratto più più forse contratto nel senso che avessero scelto di unirsi le varie ps della sua famiglia avessero scelto di unirsi a quella famiglia accordando questo ehm questo scambio ok quindi sono d'accordo che si che il primo che fa il passo avanti manda l'informazione agli altri gli altri la registrano e si mettono a livello quindi si spostano proprio eh insieme all'unisono Monica sì in questo senso sembra proprio l'elica del dna eh dove c'è questo passaggio di informazioni e poi in fin dei conti il dna è anima perché noi conosciamo solo una piccola parte del dna il resto del dna viene chiamato spazzatura ed è chiamato spazzatura proprio perché è la connessione con l'anima quindi sì in questo senso dna assolutamente sì come vedi cristiana davanti a questa analisa e che la sente molto sua è come se si percepisse uno di questi torsion questi punti di torsione del del dna ed era come la vedi come la senti ora ora è chiaro quello che lei sentiva già così anche ha preso delle parole che hanno anche senso quindi lo sente c'è stata un completare chiudere il cerchio una completezza prima è come se mancassero dei pezzi e un senso adesso lo sente profondamente il senso e quale e quale che le ha scelto insieme alle altre ps della sua famiglia di fare questa esperienza unita unita quindi si fuori la parola un'unica grande anima se va bene questa è una seconda sessione cristina e avanti quanto a quanto vibra monica al momento io vedo 89 miliardi 137 bene la con questa super vibrazione la mandiamo una e trina cioè divisa in tre ciò contemporaneamente in tre luoghi diversi la prima la seconda e la terza casa la terza infestata lei che ancora le sue entità eteriche e mentali crea la pulizia sotto gli occhi nel cinema di tutto il sulcis che è venuto a vederla chi vuole parlare monica fa proprio vedere come proiettata in terra come se fosse diciamo così la base di questa di questa proprietà una croce e sopra la croce la testa di un angelo di cui vedo le ali che mi ricordano le ali che abbiamo visto all'inizio di quel dragone alato è come se lei chiamasse all'appello io io credo che nella sua terra ci siano vedo soprattutto delle figure femminili che hanno proprio a cuore il ritorno alle origini il ripulire completamente la loro terra da tutti questi orpelli che sono stati messi incluse queste queste bruttezze legate alla religione bruttezze legate alla nato piuttosto che hai alla massoneria ok vedo che ci sono proprio un gruppo di donne che la aiutano ecco quasi nella pulizia di tutta la zona mentre lei sta pulendo la proprietà elena sì ma è alla fine del processo la maga christina ha finito allora ha tolto tutti ha tagliato tutti i legami degli accordi tra la chiesa locale no quindi della zona del sul cis quella zona lì e ha proprio tagliato questi legami con massoneria potere militare e chiesa ok erano proprio degli accordi dei meccanismi per movimentare quell'energia a loro favore e lei li ha tagliati tutti partendo dalla casa dalla casa numero 3 quella infestata andando proprio sul perimetro di tutta la zona con le sue forbicine se infestata da cosa lì lì ho visto già prima subito quando ha nominato quella casa senza dire niente avevo visto c'è lì è stato sacrificato un ragazzo che è stato sacrificato proprio perché aveva iniziato a ribellarsi a questi giochi questi meccanismi di potere e proprio perché lui era uno che protestava a loro a livello energetico era molto più per loro era molto più potente sacrificare lui che un'altra persona e quindi è stato sacrificato di monica simi dalla rimanda un sommo sacerdote evidentemente lì c'era in quella zona un sacerdote molto importante importante nel male non nel bene e che fa lei maga cristina che fa è quello il primo allora come se l'avesse preso in una avesse messo questo ragazzo in una in una grossa ciotola con acqua di energia mi viene da dire energia liquida della ps non so come descriverla quindi messo lì quindi come se avesse fatto quello che noi facciamo con la vic e aprendo il portale aureo mettendolo in questa in questa grossa ciotola e con quest'acqua ha fatto questo questo effetto qua quindi lui si è liberato dalle dall'incastro della sua morte terreno e dopo aver fatto questo il primo legame che ha rotto è proprio quello della casa della casa numero 3 con la chiesa e gli altri poteri io vedo che ad opera anche del sale come l'unione dell'acqua del sale potesse richiamare il mare per loro è tanto importante vedo proprio che attraverso una sorta di rituale lei compie come se questo rituale potesse andare a risolvere risanare tutti i rituali che ci sono stati di e infatti le riesce proprio a far questo grazie a questo rituale di acqua animica e sale che vedo che è un sale purissimo diciamo riesce proprio a liberare a ripulire tutta una società fatto si dice andiamo al cluster rapidamente ormai lei ha capito ha capito perché se le rimessi ha capito perché di nuovo che scalinata verso il cielo un nuovo progetto era quello non si in effetti è così cristiano secondo me oggi fa un balzo ancora più in alto sebbene l'altra volta ha fatto un grandissimo salto via tutto in un attimo contratti e pezzi di avatar dell'avatar ho visto che era rimasto solamente la parte alta della testa perché era da lì che usciva quel impianto mentale tipo lancia che faceva tipo d'antenna no solo quello era rimasto però ha rimosso tutto mettendo già nel portale definitivo nella nell'avatar e nel cluster lascia un suo ad eternum spirale la vedo molto maga come se potesse giocare con gli alambicchi e quindi fa questo ad eternum che inizialmente sembra quasi essere del vapore acque o del fumo quasi no e poi mano a mano prende sempre più consistenza e luce elena si si vede anch'io questo aspetto magico di cristina proprio che appunto c'è questa spirale conchiglia di madreperla che dove lei passa gli passa intorno alla mano e passando intorno alla mano diventa proprio l'energia pura che vibra alla sua massima potenza e si espande con lei che con la mano la fa espandere proprio anche posto dell'avatar bene allora adesso si può divertire può andare nella sua città e crearne uno a forma di conchiglia e lo pianta lì poi siccome parlavamo di acqua inondiamo tutto il sul cis che probabilmente in passato era ricoperto di acqua di acqua sia dolce che salata eterica cosicché questi due conchiglioni uno quello fatto da quell'altro e l'altro quello fatto da lei molto vicini probabilmente entrambi nel sul cis iniziano a far cadere e entrare tutta quest'acqua nel sottosuolo sardo nelle gallerie nei cunicoli delle basi questa chiama quest'acqua un po birichina va anche sul mare nel mare risale la china delle navi a guerra e l'acqua si sa non si ferma in qualche modo il loro stesso ragionamento di questi giorni no l'acqua non la fermi l'acqua ovunque ma nelle macchine che la gente si paga a rate nelle cantine nei box se la gente si paga a rate l'acqua organizzata adesso va dove vuole cristina la maga che vedete mi risulta che è un'acqua si di purificazione anche di di svelamento mi fa vedere che fa andare quest'acqua anche dove ci sono i nuraghe come volerli fare parlare come a volerli riattivare nella loro potenza nella loro verità si sono delle onde particolari non sono onde che fanno così ma sono onde che fanno così e poi come se tornassero al mare riprendessero anche forza e poi ripartono così e tutte le volte come se fossero degli archeologi fanno uscire alla luce una volta ogni volta un pezzo in più uno strato in più e viene fuori tutto fuori la storia viene fuori la verità sì quello che vedo man mano che escono gli strati che quindi la storia tutto quello che è sotto ma anche a livello energetico la potenza aumenta e diciamo i soggetti responsabili di questo offuscamento di questo di questa soppressione vengono bruciati da questa luce della verità quasi come se fossero vampiri si dissolvono diventano cenere proprio sotto la luce della verità va bene nuova monica vibrazione di cristina 754 647 elena consapevolezza 231 237 ps monica adesso mi viene 61 68 vite elena 1028 poi c'è più o meno se cervello monica 10 e mezzo il 9.9 c'è ancora traccia del progetto delle entità mentali ed eteriche degli impianti no c'è ancora traccia monica no c'è ancora traccia della vecchia cristina così cristina e lei ha solo più esperienze più consapevolezza e più informazioni non la c'è ancora c'è ancora traccia di sostanza di sostanza e lei era con queste era allora la vedo la vedo uguale più espansa quindi è sempre stata potente so come dire non la vedo diversa la vedo più espansa e non soppressa monica e lei senza più nessuno sbarramento prima mi faceva vedere una cristina in cui a un certo punto c'era tipo una serranda adesso non c'è più non c'è più nessuno sbarramento e lei fluisce continua a crescere messaggio finale di cristina se stessa anche in relazione a quella energia sostanza nera che limita l'azione energia pesante della sua terra sul cis si è appunto ma arrivata proprio quell'immagine lì rispetto alla sua terra sul cis proprio di lasciarsi portare dall'onda della pulizia da quell'onda che è stata creata ora per farsi portare da quell'onda proprio se si fa trasportare da quell'onda sente la vibrazione molto alta e sente che tutto fluisce che si può espandere sentirà che è molto più semplice ora contrastare non rifiutare le limitazioni che vogliono imporre poi qualcosa tipo la mia terra è libera io sono libera svincolata proprio da qualunque forza oppressiva e anche in parte vedo è un po' svincolata dalla famiglia nel senso come se rimanesse unita affettivamente alla famiglia però è come se lei adesso andasse un po più veloce rispetto agli altri familiari e quindi non ci sono più corde che la frenano messaggio di cristina se stessa cosa fare in questo momento del gioco che la riguarda come incarnata cristina la prima cosa che che vuole dire a se stessa e continua il tuo lavoro ma fallo in maniera autonoma decidi tu per te stessa senza vincoli esterni lavoro lavoro se non lavoro su se stessa no no su se stessa lo sta facendo quindi continuare in quella direzione di proprio di scoperta no di curiosità di innalzamento delle vibrazioni ma per quanto era proprio il suo lavoro ecco può farlo in autonomia scegliendo lei diciamo tutte le condizioni parametri e mi dà l'immagine dell'acqua e anche nel momento in cui troverà diciamo degli ostacoli perché comunque sta facendo sta per fare delle cose molto importanti ricordarsi di essere come l'acqua e che quindi riuscirà a superare e ad aggirare ogni ostacolo ricordarselo nel momento in cui ci sono le difficoltà lei può tranquillamente essere come l'acqua ottimo come la vedete meravigliosa come se fosse una lampadina che distribuisce luce e vibrazioni si ricordi cristina che può alzare la sua frequenza i suoi intenti e i suoi obiettivi a suo piacimento abbiamo finito come pronti a tornare sì